eccoci finalmente non vedo l'ora di vedere la mia sorpresa permesso grazie caccia al tesoro ma quanto è alto quest'albero e guarda quante luci forse è qui la mia sorpresa vediamo, qui no qui neanche e no, mi sa che non è qui ma che cos'è questo profumino? biscotti di natale ehi ehi ehi, aspetta eh ma dov'è andata? eccomi in paradiso adoro questo posto immenso chi sei tu? ma c'è gente magari loro sanno dov'è la mia sorpresa qui niente li ho già guardato dai moca andiamo finalmente ci siamo arrivo eccomi sono pronta che cos'è? che cos'è? wow morbidosissimo da me da moca e da nostro presidente Luigi siamo qui per dirvi buon natale e buon anno un ringraziamento a tutti per il lavoro che avete fatto e che abbiamo fatto quest'anno e carichi per l'anno prossimo un abbraccio a tutti un saluto buone feste dove saranno i biscotti? buone feste che cos'è? che cos'è? Grazie a tutti.